46 bandiere sulla 31esima fiera, a prodo della civiltà produttiva. La rischiara da queste fiaccole di metano una luce italiana. Con pozzi e metanodotti già risparmiamo carbone per oltre 2 milioni di tonnellate all'anno. Petrolio più acciaio e abbiamo le nostre automobili, capolavori di ingegnosità. Alla siderurgia è dedicato uno dei viali della fiera. Il laminatoio continua, freddo, anticipa i lavori dell'impianto di Cornigliano che produrrà il nastro zincato. Un salto di golfo in golfo e siamo a Napoli Bagnoli, fucina di coc, ghisa, acciaio. Gioco magico delle proporzioni ed è l'immagine del secolo che concentra nelle misure umane il dominio di gigantesche energie e mezzi produttivi. Così il clavioline riporta su una piccola tastiera le voci multanimi dell'orchestra più i nuovi timbri elettronici. Come il cogliardo si è messo un veliero in testa così in una vasca si fa viaggiare la nave radiocomandata. Bella vita per i marinai quando il capitano starà a terra e con qualche tasto sprigionerà il fischio della sirena e la musica di bordo. Catapulterà dal ponte gli aerei, poi con la gru li ripescherà dalle acque, li rimetterà a cuccia. Scommettiamo che c'è il tasto anche per cucinare gli spaghetti. Speriamo che non inventino mai il tasto per mangiarli.